A voi tutti ben ritrovati, cari amici di Meteo Giuliacci, un saluto da Giuseppe De Vittis. Febbraio, febbraietto, corto corto e maledetto. È arrivato come promesso il freddo che investe un po' tutta la penisola italiana, ma soprattutto guardate il centro e il sud del versante adriatico, con temperature impicchiata. Avremo però pochi cambiamenti, abbiamo avuto ed avremo pochi cambiamenti sul nord Italia. Qualche fenomeno ci sarà invece al centro e al sud. Guardate, sul nord Italia nella giornata di martedì, tempo buono, tempo tranquillo, anche piuttosto bello. Solo un po' di velature tra la Liguria, il nord, poi piegheranno verso la Toscana, ma come detto pochi scossoni. Cielo in prevalenza sereno su buona parte dell'Italia centrale, sulla Sardegna. Attenzione invece nelle zone interne tra l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Basilicata e poi sulla Sicilia settentrionale qualche scroscio di pioggia e qualche fioccata qua e là. Mediamente le nevicate compariranno dai 4 ai 700 metri in su. Quota neve che però in serata continuerà a calare progressivamente perché continuerà ad affluire aria piuttosto fredda proprio in serata e nella nottata tra martedì e mercoledì. Per il momento è tutto, venti forti settentrionali piuttosto freddi. Arrivederci.